I volti sorridenti di adulti e bambini, delle persone che stanno dietro al marchio e delle nuove generazioni che ruotano attorno all'azienda. Una grande foto in bianco e nero appesa alla parete dà il benvenuto e accoglie visitatori all'interno di una delle sale riunioni della filatura Cofil di Montemurlo. Sono trascorsi oltre 40 anni dall'inizio di questa avventura imprenditoriale. Nata come piccola azienda artigiana, la Cofil è cresciuta e si è specializzata nel tempo. Oggi è una delle aziende di riferimento nella produzione e commercializzazione di filati fantasia e lineari in Italia e all'estero. Fondamentali si sono rivelati gli investimenti nell'innovazione tecnologica che hanno permesso di ampliare le competenze senza mai perdere l'intuito dell'artigiano su cui da sempre Cofil fa affidamento. Come è organizzata la struttura aziendale? La struttura aziendale è organizzata, produzione del 50-60% dei nostri prodotti internamente, con tanti lavoranti esterni e collaborazione molto stretta con 3 o 4 lavoranti esterni. E poi soprattutto è organizzata con un grosso magazzino di filati che ci dà la forza di consegnare immediatamente quello che ci viene richiesto. 40 anni di esperienza hanno portato la realtà montemurlese dei due fratelli e soci Massimo e Federico Corrieri ad essere presente su tutti i principali mercati con filati da maglieria e tessitura caratterizzati da uno stile moderno e originale. I prodotti girano tutta quanta l'Italia ma anche l'Europa, arrivano ad esempio in Spagna, Francia, Polonia. Qualche numero? Negli oltre 10.000 metri quadri di impianti vengono realizzati circa 4 milioni di chili di filato all'anno. Senta, qual è la forza di questa azienda? Ho detto prima, la consegna immediata del filato, la varietà di filati, il rapporto diretto con alcuni clienti. Il prossimo 2 febbraio l'azienda riceverà il premio Santo Stefano giunto alla sua nona edizione. Un riconoscimento tutt'altro che scontato, che ha colto di sorpresa anche l'altro titolare Federico. Per noi è un grande orgoglio essere stati premiati e grazie molto probabilmente all'impegno che abbiamo messo negli ultimi anni nella nostra impresa, grazie ai nostri collaboratori che ormai sono circa 100 che lavorano in COFIL, più tutto il distretto.